Buongiorno a tutti, buongiorno ed eccoci di nuovo qui, buongiorno Lorenzo, buongiorno a Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Crystal Radio e in questo momento siete sintonizzati qui con le nostre voci e con Good Morning Milano, ben ritrovati per questo mercoledì 13 dicembre Santa Lucia, quindi auguri a tutte le Lucie e soprattutto auguri a chi festeggia Santa Lucia che porta i doni, quindi stanotte alcuni avranno ricevuto, beh non sono, hanno ricevuto i doni tra la notte tra il 12 e il 13 perché oggi appunto è Santa Lucia, anche protettrice della vista, quindi un saluto a tutti coloro che portano gli occhiali come me, no infatti sì sì che sono ciecati come me che portano gli occhiali infatti sì sì. Beh tra poco, tra poco succederà anche a me, se vedo, sento che sta sempre di più peggiorando. Sento che non vedo? Sento che non vedo, è una figura retorica di cui non ricordo il nome, quella di accostare due sensi che non hanno niente che fare. Invecchiamento in questo caso, in questo caso è una figura retorica di invecchiamento, sento che non vedo, vabbè sì, vabbè voi invece ci vedete bene, non ci interessa nemmeno che dovete ascoltarci, e scriverlo al 3317853555. In realtà se ci vedete potete anche vederci, perché comunque su Milano News potete anche guardarci. Alle 7.10 non è proprio un bellissimo spettacolo, però insomma se vi interessa vedere il faccino bellino e gli occhi azzurri penetranti di Lorenzo Masieri. Più chiusi che aperti. Vabbè se riuscite a vedermi, l'accanti si vede tutto la maia, quindi non c'è problema. Iniziamo con la musica, articolo 31, Un bel viaggio. Bellissimo. Quello che ho ogni mattina, faccio insieme a Lorenzo Masieri. Articolo 31, Un bel viaggio, la prima canzone della loro reunion questa, giusto? Della loro reunion perché recentemente ho scoperto che, perché non ero particolarmente interessato, che gli articoli 31 si sono riuniti più volte solo in dimensione live. Ah, cosa non lo sapevo. Cioè se tu vai a vedere su Wikipedia, ci sono ogni 4-5 anni Fanno un live. Fanno un live, quindi non è che sono mai sciolti. Non avevano mai fatto però invece i dischi. Un singolo, perché alla fine non è uscito il solo il singolo. Grandissima canzone, posso dire un po' la Pezzali però, c'è un po' quella roba lì. Sono grandi amici. Forse va bene, c'è la storia, il viaggio, un po' così, un po' gli anni. Sì, per parlare un po' quella roba lì. Vedere l'amico come l'amico di vent'anni fa, di vent'anni fa. Sì, sì, sì. Ma sono grandi amici. Va bene, sono magari anche un po' influenzati può essere. Ma soprattutto è il momento di Pezzali questo. Quando è che uscirà la serie? È breve? O lo stanno girando adesso? Non so, non so come volta che accendo Sky. Sì, è già girata perché non mi hanno chiamato. Eh, infatti, vero, vero, vero. Si può dire questa? No, non l'ho detto. Non l'ho detto in onda. No, dille in onda. Dille in onda. Almeno mi sembra. In onda. Allora, intorno a luglio mi pare, giugno-luglio, un mio amico, grande fan di Max come me, mi ha mandato un link in cui si cercava sostanzialmente le comparse per fare la serie che poi andrà su Sky prossimamente, su Yototototro 3. Ho mandato il curriculum, chiedevano un abbigliamento anni 90. E fin lì, normalmente ce l'ha addosso. Esatto, esatto. Un giubbottino di pelle, via. E poi chiedevano un veicolo anni 90 che sia una macchina, una bici o una moto. Tutto questo dove doveva essere a Pavia. Io l'ho mandato lo stesso perché ho detto, boh, metti che quel giorno ripassa Max, che ne so succede. Sicuramente ci sarà, ma sicuramente non sarà sul set, ma sarà informato, magari un giorno passa, eccetera. Ho detto, lo faccio, non mi ha mai chiamato. Ok, perché l'hai fatto con la bicicletta, tu la foto, giusto? L'hai fatto con la bicicletta che è degli anni 70. Che è degli anni 70, era fuori contesto, diciamo. Però ci ho provato. C'hai provato, vabbè. Magari potevi essere la futura Giulia Roberts, scovata in un bar, scovato in una pista ciclabile, e poi diventavi un grande attore, invece niente, vabbè. E niente, la tua vita continuerà qui al mio fianco, capito? E intanto, al 3317853555, Alberto, buongiorno amici del mattino, buona Santa Lucia a tutti, stando al detto popolare, Santa Lucia il giorno più corto che ci sia. Ne parleremo dopo perché, vi dico, vi spoilero questa cosa, non è vero. Ebbè, è il suo stile, il 21... Perché tu sei un po' scienziato, come dire? C'è gente che invece non la sa questa cosa, vedi? No, il detto popolare dice questa cosa, dice, Santa Lucia il giorno... Più corto che ci sia. Ok, e invece non è vero, ci sono giorni più corti, già domani è più corto di oggi. Ma ci sarà una ragione dentro questo detto. Sì, beh, anche il calendario, cioè non è che erano proprio così scienziati quando hanno fatto questa roba. Sì, no, è una concezione. Concezione, sì, sì. Beh, è vero che comunque le giornate si stanno sempre di più accorciando, o meglio, arriveremo al 21 di questo mese con le giornate se più corti e poi, di colpo, a un certo punto si allungheranno. E la cosa divertente è che ti sembreranno... C'è il giorno dopo, c'è il 22, dici, ecco, vabbè, si vede, invece non si c'è un minuto, tipo. Però la percezione, la percezione che giochi che fa... Comunque, Santa Lucia, buona Santa Lucia a tutti. Diteci se l'avete festeggiato, perché a me si festeggia non solo dalle parti di Bergamo, giù di là, e anche in cui comunque in provincia ci sono delle piccole sacche di Santa Lucia che festeggiano. Vediamo invece se c'è da festeggiare per il traffico. Luce verde. Ed Sheeran Celestial. 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 Penso... Celestiale. Celestial. Ecco, Celestial, Celestial è la nuova canzone di Ed Sheeran dedicata a Roberto Formigoni, il famoso Celeste, no, non era scritta per lui, pensavo, pensavo fosse scritta per lui, niente, no, ho sbagliato. Intanto ci scrivono che si festeggia anche a Cremona e a Pavia Santa Lucia. Ah, e allora augure chi ci ascolta da Cremona e da Pavia, perché se è la novità... Siamo in DAB. Non è la novità, però nel senso... No, diciamo da Pavia, abbiamo iniziato. Siamo in DAB e quindi ci ascoltate anche a Cremona, a Pavia, anche a Mantova, a Sondrio, Lecco, Como, Milano... L'ho dimenticato qualcuno, nelle province di Milano, della Lombardia? Sondrio. L'hai detto? L'ho detto a Sondrio, non mi ricordo. No, vabbè. Comunque. Anche se penso che a Sondrio non ci ascoltino. No, ci odiano. No, a Sondrio ci odiano. No, credo ci sia un motivo fisico per cui il DAB non arriva bene da quelle parti, una cosa del genere. Non so, avevano detto una cosa una volta, ma posso dire che non mi interessa tanto se non avevo ascoltato bene il nescorso. A Sondrio ci... Però si mangiano dei buonissimi pizzocchi. Eh beh, certo. Volevo dimettere una pezza con gli amici di Sondrio. Ho tanti amici che... Ho tanti amici di Sondrio, appunto. Non sono razzista, ma ho tanti amici di Sondrio. Esatto. Comunque, iniziamo un po'. Allora, prima della segna stampa, una puntatina sull'almanacco, perché chiaramente abbiamo già detto la cosa importante di oggi. Che è Santa Lucia. Poi, primo pallone d'oro... Cioè, primo, il pallone d'oro a Shevchenko, perché ne ha vinto uno 19 anni fa. Ciao, ciao. No, non adesso, dopo. E poi, grazie a risate. E poi questa cosa qua che mi ha incuriosito, brevettato il cono gelato, 120 anni fa. Niente, vorremmo lasciare un attimo questo silenzio perché... Brevettato il cono gelato. Brevettato? Cioè, il cono gelato è stato brevettato. Prima notizia è questa. Davo italiano? Beh, sì, il famoso signor cono. No. Italo Marchioni. Ah, va bene, ok. Che sembra un nome di Maccio Capatone. Sì, infatti. Il cono gelato è stato brevettato il 13 dicembre di 100 anni fa. 1903. Negli USA. Una pensata... No, di 120 anni fa. Sì, sì, sì. No, no, 120 anni fa. 120, quindi il cono gelato compie... Cioè, il cono compie il 120 anni. Perché il gelato c'era già molto probabilmente. Te lo lanciamo in faccia. Da qualcuno fa il gelato, pum, te lo spariamo in faccia così. Molto interessante. Tipo palle di neve. C'erano palle di gelata. Apri la bocca, così. Chiaramente questo intermezzo ironico colorato per... Ok, per rovinarlo. Per rovinarlo. Sto ricordando che il 15 di dicembre, venerdì, ci sarà lo sciopero di ATM, mentre, e questo ieri non l'abbiamo detto, il 14, cioè domani, c'è uno sciopero che potrebbe coinvolgere i treni di Trenord. Ok. Si legge in una nota, sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia, di Trenord proprio, dalle 9.01 alle ore 16.59. Ok. Mi piace molto questa precisione, perché vuol dire che avranno mille messaggi. Ma è compreso, ma non è compreso. No, ma è compreso, perché sono così precisi, perché i loro treni arrivano sempre in orario, capito? Del 14 dicembre 2023. Adesso, le sigle sindacali non penso siano grossissime. Ok. Non penso siano grossissime, state attenti, è possibile che ci siano dei disagi appunto domani sui treni. Tra le 9 e le 5. E poi, dopo domani invece, un po' più sostanzioso sulle linee ATM, anche se il sindaco Sala ha parlato di giornata delicata e sta vedendo con il prefetto cosa fare e come agire. Ieri ha dichiarato. Ecco, e allora staremo a vedere, stay tuned, per sapere tutte le ultime sugli vari scioperi della Lombardia e di Milano. Gianluca Grignani, quando ti manca il fiato? Quanto gli vogliamo bene, Gianluca? Tantissimo e, ripeto, la canzone più bella del festival. Sì, e il momento anche più del festival. Quando ha cantato nel duetto con Arisa, con l'orchestra che è ripartita. No, no, secondo me è stato il momento più rock della televisione italiana dopo tantissimi anni. Sì, 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 qualcosa di... Ciao Gianluca! Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. L'ho visto, vabbè, di Lodi. Come c'è la fana? E parla così strano assieme di Lodi? Sì. No, Gianluca, non si scherza. Potrebbe sembrare tranquillamente romagnolo. Sì, infatti, 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 per quello dicevo, pensavo fosse di un pochino più in giù. Magari l'amicizia con Vasco. Ah, poi, magari l'influenza del Po, insomma, non è tanto distante dall'Odio, di Piacenza un attimo, proprio, effettivamente. Sarebbe veramente curioso di sapere l'amicizia tra Grignani e Vasco, se c'è ancora, se è continuata. Ah, ma di tutto quel gruppo, quello che mi nasce sempre un po' estremato è Correri. Perché è un personaggio? È vero, perché tu lo vedi, dici, ma che ci fai in mezzo a sta banda dei debociati, no? E poi, molto probabilmente, è il più debociato, forse. Ma, molto probabilmente, sì. Attenzione, debociato, ho detto, nella accensione più positiva del termine, cioè quanto vorrei essere debociato così anch'io, non so come dire. No, vabbè, Correri, è un autore, principalmente. Sì, è fantastico, è fantastico. Anche la problematica d'autore. Comunque, riprendiamo cosa dà la segna stampa. Cosa dicono i giornali? Purtroppo, sempre una notizia negativa, perché, come sicuramente sapete, noi non abbiamo dato notizia, perché sapete che abbiamo un altro tono, esatto. Però, durante la prima, in una delle occasioni della prima diffusa, diciamo, al carcere di San Vittore, cosa è successo? Che un carcerato, un detenuto, ha tentato il suicidio. Il giorno dopo è deceduto e ieri in Consiglio Comunale, Naum, PD, ha proposto, vorrei fare una proposta, ha detto, c'è stato l'ennesimo suicidio a San Vittore durante la proiezione della prima della scala. La situazione a San Vittore è intollerabile, credo che Milano debba dare un segnale. Per questo chiedo di organizzare un Consiglio Comunale straordinario nei primi mesi del 2024, si intende all'interno del carcere di San Vittore. Ok, vorrebbe fare un Consiglio Comunale all'interno del carcere. Beh, questo tema segna, te lo ho, nel senso che la settimana prossima avremo Valcauda, giusto? Sì, Federica Valcauda. Federica Valcauda, e che è un tema che stanno comunque portando avanti, perché, dato di qualche giorno fa, adesso non vorrei sbagliare le cifre, ma i carceri italiani hanno superato le 60.000 unità interne per i carceri, quindi 60.000 detenuti, per una popolazione che può essere massima di 48.000, insomma una cosa del genere, cioè sulla carta dovrebbe essere non più di 48.000. E quindi il tema comunque del sofforamento dei carceri è un tema importante. Ricordiamo che troppo spesso non si parla appunto di questo tema, che viene sempre tenuto un po' lontano dalle nostre menti, perché, insomma, ci fa un po' paura l'idea che esistono i buoni e i cattivi, questa cosa un po' facciamo fatica ad accettare che il nostro mondo è fatto anche di questo e che molto spesso poi non è così netta la divisione tra buoni e cattivi, soprattutto. E anche perché la maggior parte della gente pensa che il sofforamento dei carceri non sia un problema inteso, che se uno ha sbagliato deve pagare, certo. Però ci sono i cosiddetti reati minori che, diciamo, fanno più casino una volta che sono in carcere. Adesso la sto un po' estremizzando, però... E poi va bene la pena, va bene la certezza della pena, quello che volete, ma poi anche la pena deve essere commisurata e comunque i diritti delle persone devono essere sempre comunque... Devono esserci e non si può pensare di fare dei luoghi di sovraffollamento e buttarli come fosse del bestiame. Un'altra canzone dal festival. Sì, un'altra canzone dal festival, infatti. Mr. Rain con supereroi, bella interpretazione al festival, devo dire. Mi ricordo con il coro dei bambini, ma è stato un bel momento. Quest'anno torno. Supereroi, Mr. Rain, invece il mio supereroe sei tu. Adesso, non è il mio supereroe della mattina. Perché... no, niente. Cos'è? Perché scovi le notizie dove altri non scovano. Non ho un mantello. Vabbè, fa niente. Cosa dicono i giornali? Siamo imbarazzati, si è imbarazzato. Sì, uno sono imbarazzato, due stavo cercando una battuta che non ho trovato. Che non fare, non farlo. Non farlo, non è che dobbiamo... non siamo pagati per fare battuta. Sono imbarazzato, sì. Allora, la notizia di giornata qual è? Qual è? È molto tecnica, infatti io metterò la larga da ciò. Allora, un neurone... Ah, no, non è così, no. L'atomo diviso in particella. No, ok. Corriere della Sera Milano. Ok. Milano, virgola. La linea M4 della metropolitana diventa tutta pubblica. Il comune compra le quote dei privati per 225 milioni di euro. Poi se si va nell'articolo però si legge. Starebbe per approvare l'acquisto, l'assessore al bilancio, eccetera, eccetera. Mentre altri giornali danno già per fatto perché ieri è stato approvato un qualcosa in Consiglio Comunale. Adesso non credo abbia un'effettiva, diciamo, la giunta comunale ha, infatti, approvato la delibera con la quale autorizza l'azienda, cioè non ha effetto immediato, immagino. Il fatto sta che sostanzialmente si tratta di un unicum in Europa, si legge, del fatto che ATM, quindi sostanzialmente Comune di Milano, controllerà l'M4 togliendo piano piano ai privati la parte. Al momento ha il 66%, se non sbaglio, avevo letto una roba del genere, sì. Perché si fa sta roba? Poi è interessante capire perché. Poi unicum in Europa, la miseria, sono gli unici... Ho letto così, ho letto così. Si tratterebbe di un unicum in Europa, sì. Perché? Non lo so, non te lo so dire io perché. Questo ti posso dire però cosa ha letto con. Il sproprio popolare, il sproprio popolare. Emanuele Conte, assessore al bilancio del Comune di Milano, ha detto Questa operazione conferma il rilancio agli obiettivi dell'amministrazione comunale di efficienza, sostenibilità ambientale ed economica. L'esperienza e la competenza di ATM, dimostrate anche nella recente operazione di gestione della metropolitana di San Lomico. Salutiamo sempre i cugini greci. Consentano di rendere totalmente pubblica un'infrastruttura strategica come la M4. Allora, io dove c'è pubblico sono contento. Sì, perché sei un comunista. No, no, no. Per determinati settori sono contento. Sono contento. Sì. Vediamo. No, domando una cosa però. Scusa, ma pure le altre M... Infatti posso dire che hanno preso la più semplice. No, ma perché le altre M non sono già tutte in mano ad ATM? Noi P20-20. Noi P20-20 no. Noi P20-20 no. C'è M5, SPA, ma M1 sì che di ATM. Non lo so. Non lo so. Ma come al solito, poche notizie scritte male, benissimo sempre. Noi le possiamo anche leggere peggio di solito. Sì, sì, sì. No, no. Allora, io posso dire una cosa. Ci sta che noi dovremmo sapere tutto. Ma non possiamo sapere tutto. E poi soprattutto, soprattutto, certi articoli ti mettono il dubbio a volte. Per dire, ma come? Perché non era già così? Quindi magari, essendo così tecnica, magari spiegatelo un attimo. Ad esempio, come ad esempio le M1, le M2 e le M3 che sono invece pubbliche. Che quelle? Non lo so. Adesso andiamo. Ah, eccoci. Con l'acquisto del 31% in mano ai privati da parte di ATM, resterebbe fuori dal totale controllo pubblico solo la M5. Ok. Quindi, forse, l'unicum in Europa è il fatto che il comune le abbia tutte? Non lo so. Tutte meno una? Tutte meno una. Non lo so. Che comunque ha il controllo, ma non totale sulla M5. Alla base dell'operazione, che sarebbe un unicum in Europa, dove al contrario c'è il privato che acquisisce le quote del pubblico, c'è la volontà del comune di anticipare i tempi previsti, dei patti parasociali, eccetera, eccetera. Ah, ok. Molto l'unico, ma il fatto che di solito è il pubblico che costruisce e poi vende al privato una volta fatto qualcosa. Cioè, parte, poi dopo... Ok, adesso che è avviata, compratela. Il che vuol dire... Invece qui facciamo il contrario. Il che vuol dire che comunque... Ha fatto una cosa di sinistra? Ha fatto una cosa. No, non lo so. Mi dico sempre che non è di sinistra. Oggettivo, oggettivo. No, oggettivo, oggettivo. Va bene. Andiamo avanti invece con la musica. Vi potrebbe sembrare che vadano in Subsonica. Invece no, è solo Samuel. È solo Samuel insieme alla bravissima Francesca Michelin nel cinema. 7.44 minuti. Crystal Radio. Good morning Milano. A fra poco. Samuel con Cinema insieme a... L'ho detto, la bravissima Francesca Michelin. Ha detto bravissima Francesca Michelin. Facendo risultare che sei di parte. Sì, sì, sì. Posso dire bravissimo Samuel. A me i Subsonica non piacciono. Però è un antico bravissimo Samuel. A me i Pieno non sia Subsonica che Samuel, devo dire. Però, non lo so, la Michelin mi sta simpa. Mi sta simpa. Una simpa. Non mi piace Subsonica perché non apprezzo quel tipo di... Tutta quella roba elettronica. Esatto, esatto. Però, cioè, Busta e Samuel sono ultra simpatici. A parte di essere ultra simpatici. Sì, sì, sì. Sono dei mega professionisti. Sì, cavolo, 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 cavolo. Comunque, ritornando un attimo sul discorso di prima, ci sono le parole del sindaco Sala che ieri è intervenuto sul tema. Della privatizzazione. Esatto. No, scusa, della pubblicazione. Come si dice? Non so, non ho un tema. Il mio credo è che le reti devono essere pubbliche, si legge al suo punto sul giorno. La gestione può essere privata, ma le reti è meglio che siano pubbliche. Questo lo penso per tutte le reti. Questa operazione va in quella direzione. Sono d'accordo con questo. Ok, sì, no, no, chiarissimo. No, sono d'accordo anch'io in questo caso. Cioè, la rete, essere pubblica, quindi, B-I, dove vive, stazione, infrastrutture, poi la diamo magari in concessione. Però in questo caso non sarà così. Perché in realtà la tiene in concessione, poi, anche ATM la gestione, quindi non è proprio così. Ma secondo me facciamo un po' riferimento più a politiche nazionali, dove si parla di reti cellulari, cose così, anche se è tutto un movimento di aziende che vorrebbero succhiarsi le reti nazionali della telefonia mobile. Non so cosa dire, sono delle robe troppo... Dallo scopro di TIM sta nascendo tutto questo disastro. E intanto dall'opposizione Alessandro Verri, capogruppo della Lega in consiglio comunale, dice, mentre TM taglia le corse, peggiora la qualità dei servizi e non garantisce la sicurezza dei suoi dipendenti. Oggettivamente, abbastanza... Cioè, diciamo, un po' esagerato, ma sono cose che hanno un senso. E degli utenti, è la sicurezza, vengono spesi centinaia di milioni di euro per acquistare le quote di una società di cui erano già soci di maggioranza. Regalo ai privati, dice. Che bello, quando la destra fa la sinistra, la sinistra fa la destra. Cioè, veramente, ormai c'aveva ragione Gal, che cos'è la destra, cos'è la sinistra. Ma, chi lo sa, è sempre molto divertente sentirli così. Anche se, però, basta, polemiche, dai, fate un po' di... Fate una Pax natalizia, almeno, cioè, infatti, nel senso, non lo so, io... Cioè, siamo qua tutti a urlare al case fair, al cessate il fuoco, ma poi fate sempre bagare su qualunque roba, cioè, basta, dai. Ah, c'è la politica, la politica. Sì, però, un po' stufato. Poi capisco la gente che non si appassioni più, cioè... Anche perché non è che ti trovi dalla parte... Cioè, l'almirante con Berlinguer che fanno chissà quali discussioni, capito? Adesso non me ne voglio a Verri, però, c'è... Verri con Mazzei possiamo avere noi a Milano, capito? Simpatici entrambi, io ci uscirebbe la birra con tutti e due, però, appunto, ci uscirebbe la birra, cioè. Sono diverse, sono situazioni diverse. Basta paragonare la politica di un tempo, eccetera. Eh, ma loro continuano a farla così. Ti ricordo, io ti dissi che il mio più grande rimpianto politico è quello di non aver visto Tangentopoli. Pensa a te. Perché la morte di quel tipo di politica è il fatto più storico. Sei sadico, vuoi vedere la morte di qualcuno. No, per dire che poi alla fine non è che tutto rosa e fiori, perché adesso a posteriori... Con il true crime, il vero true crime è lì. A posteriori sembra tutto rosa e fiori, poi alla fine non è stato così, lo sappiamo benissimo. No, no, no. Politica italiana è proprio il manifesto del si stava meglio o si stava peggio, cioè proprio quella roba lì. Anzi, la frase classica. Rubavano, ma rubavano per tutti. Rubavano, ma si stava bene. Rubavano tutti, ma si stava bene. C'è queste boiate, diciamo. Invece non è una boiata quello che sta per andare in questo momento. È una delle canzoni che ha fatto la storia del rock, la storia della musica, la storia delle radio, veramente... Della chitarra, perché come suona Mark Ruffa non suona nessuno. E infatti, ci sono i Dire Straits con Sultans of Swing. 7.50, Crystal Radio. Morandi, Ruggeri, Tozzi, si può dare di più. Questo è il Crystal History. Di oggi, mercoledì 13 dicembre, alle 8.10, ricomincia qui con voi Good Morning Milano. Ben ritrovati. Ben ritrovati. Eccoci, seconda ora di trasmissione. Seconda ora, noi diamo come sempre le coordinate all'inizio, quindi 33178535555 per scriverci su Whatsapp, foto, tutto quello che volete. Ci potete vedere, ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano News e sicuramente ci state sentendo in FM, ma siamo anche in DAB, siamo anche sul sito e siamo anche sull'app in streaming. Starete notando che anche chi ci sta guardando, insomma, qualcosa è cambiato nella nostra gestione della nostra immagine e video. Quindi ringraziamo Viola che si è aggiunta alla squadra di Good Morning Milano, ringraziamo anche Irene che in tutte queste settimane e mesi ci sta affiancando la mattina. Insomma, questa è la squadra di Good Morning Milano che va avanti ancora. Cominciamo già a dirvelo, in realtà noi la settimana prossima ci siamo ancora, poi con Natale ci fermiamo la settimana, facciamo la settimana bianca e torniamo con il nuovo anno. Se non nevi che è imbovisa, io la settimana bianca non la faccio. Vabbè no, due fiocchi mi farà cadere da qualche parte. Con il polistirolo, come da quando ero bambino. Vado sulla torre più alta della Bavisa e grato giù con una grattugia un po' di polistirolo. Va bene, facciamo così. No, non può che poi inquina il polistirolo. No, e vabbè. Facciamolo con qualcosa altro, con del formaggio grana. Va bene, facciamolo con del formaggio grana. Ieri è stato l'anniversario di Piazza Fontana, lo sapete, ne abbiamo parlato, come al solito le commemorazioni nella piazza dietro il Duomo con le associazioni dei familiari delle vittime e Beppe Sala, sindaco di Milano, chiude il suo discorso con Viva l'Italia antifascista. Continuiamo a combattere perché giustizia sia stata fatta. Queste le parole del primo cittadino. Che è successo a Sala? L'hanno cambiato, l'hanno modificato. No, vabbè, su questo si può discutere con quanto si vuole, ma su questo Sala ha sempre avuto una linea rigidissima, ha sempre stato di quella sinistra. Sì, 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 sì. Poi? Dichiaratamente e m'er fortuna antifascista. Assolutamente, assolutamente. Pensilina a ATM, cioè scusate, pensilina a ATM che regala. Le palline di Natale. Ah, sì. Non so se avete visto il video di Kerk. Allora, ho visto un video che ero di Kerk, però l'ha fatto di mattina, cioè non c'era tanta confusione. Quello che ho visto io, non so se tu hai visto un video dove c'era confusione? No. Ecco, si sono già menati? Come si sono già menati? Non lo so, chiedo. Per le palline? No, chiedo questo. Perché mi fa una paura a me quella roba lì, che c'è questo distributore di palline gratis. L'articolo sostanzialmente dice, gente in fila, eccetera, le palline vanno a ruba. Io non avevo pensato effettivamente a quello. E ci sarà una security, secondo me. Ma per perdere i pallini di Natale... Ma per molto meno, guarda, dico la verità. Considerando... Anche se sono per le scatole vuote dei pallini di Natale la gente si venerebbe. Considerando quello che succede quando magari vai ad un festival o a una serata in cui c'è la radio di turno o cosa di turno che lancia i cappellini, le magliette, la gente si butta a prenderli come se li lanciasse Vasco. Sai cosa? Potremmo fare anche noi? Noi mettiamo le tazze. Rilanciamo le tazze, vediamo che si butta a prenderci una tazza in testa. Facciamo la fine di Morgan quando si è buttato e che non l'hanno preso. Quando Vasco ha lanciato il cappellino, io ho visto cosa è successo là sotto. Sì. Là sotto. Meno di quando la radio di turno all'enema. Lo scalofarini la lancia. Può essere, può essere. Durante la Hawaiian Party dello scalofarini lancia la maglietta. Sì, può essere. Comunque no, dopo di che qualche settimana fa McDonald's ha messo fuori il McBeck con 3 euro. Si sono praticamente menati per avere, quindi devi pure pagare. Quindi immagina se ti regalano delle robe. 3 euro. Vabbè, sorvoliamo su, no sorvoliamo e basta. Sulla decadenza del nostro tempo. No, no, voglio dire una cosa più specifica. No, 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 fa niente. A proposito di serate eccetera, qual è la discoteca per eccellenza milanese per quanto riguarda i giovani? La Valera dell'Ortica. No. Ah no, ok. L'Hollywood. L'Hollywood no. Non c'è più. E anzi, anche qua. Il plastic. Anche qua non posso. Non credo. Il toilet. Il toilet. Il toilet esiste, il toilet esiste. Non ho la mia idea. Vabbè, sostanzialmente l'old fashion. Ah, ok. L'old fashionista ancora? Non c'è altro che esiste. 70 anni di carriera. Ah, ecco, infatti. Dopo 70 anni di carriera la discoteca lascerà la sua storica sede di Via Alemagna. Ok. Che è sostanzialmente alla fine del parco Sempione. Sì, ok. Non chiude l'old fashion. Dove va? Dove va? Al momento non è stato ancora reso noto il nuovo indirizzo. Ok. Però non morirà, ma riaprirà in un'altra sede. A casa di Masieri, in buon viso. No, non so. Sai che non sono mai... Via Candiani? No, non è che le Candiani. No, no. Però continua a dirlo, visto che non è quella. Infatti, infatti, infatti. Sostanzialmente ci sono alcuni articoli che parlano di una serata finale intorno al 20 gennaio e altri dicono che si chiuderebbe in bellezza il 31 di dicembre. Capiremo. Va bene. Come sembra anche qui. Ma si può che non siamo capaci neanche di dare la notizia corretta di quando un locale chiude per poi riaprire da un'altra parte? Cioè, il 20 gennaio, alcuni il 31 dicembre. Adesso trovo un terzo articolo. Che dirà il 18 novembre. No, se mi dà uno delle due vuol dire che è quella giusta. Ah, per la media del pollo. Ok, perfetto. Si fa così. Invece andiamo con la musica noi, perché siamo una radio, quindi giustamente vi allettiamo la mattinata anche con la musica. Loro sono con la pesce di Martino insieme all'imantramontabile Ornella Vanoni. Con la pesce di Martino insieme a Lavanoni con Toy Boy. Eh, tu sei il mio Toy Boy. No, no, per favore. Abbiamo quasi vent'anni di differenza. Eh, appunto. Come potrebbe essere. Ciao, Maseri, sei il mio Toy Boy. Ciao, Maseri. Stai cercando di mettere la manoni. Ci arriviamo a Natale, no? Comunque, continuando con la notizia di prima. Già nel 2019, si legge al Corriere della Sera Milano, la triennale aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il contratto d'affitto. All'old fashion. Esatto, perché come sapete e come spesso ricordo io, purtroppo fuori dalle discoteche ci sono spesso delle situazioni un po' così e nel 2019 tra le tante cose, tra le cose che hanno successo, adesso tanto o meno, non lo so, c'era stato l'accoltellamento, un accoltellamento in particolare che aveva raggiunto le cronache. Perché? Perché era stato coinvolto a Fio di Simona Ventura, vi ricorderete. E se non sbaglio, da quello che si capisce, in quel caso la triennale appunto aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il contratto d'affitto. E infatti sostanzialmente si tratta di quello, scade il contratto e l'old fashion si sposta. Ma tra l'altro lì ci sono due discoteche, perché c'è l'old fashion da parte e il già scavare dall'altra, sono due cose diverse, no? Sì, sono due cose diverse. Sono vicine sono. Sì, adesso non so se sono dalla stessa parte, ma comunque sono vicine. Poi, già che siamo sul tema della Movi, della situazione, Milano Today, titolo, Milano è la capitale italiana di Tinder. Questa è una notizia da dare. Vabbè, però è ovvio. Un milione e 400 mila abitanti, nel senso, vabbè, non so. E quanto emerge dal report Year in Swipe, della società californiana. Dopo Milano ci sono Roma e Firenze. E vabbè, grazie. È proprio una questione di numeri. Grazie al Tinder, nel senso, ovvio, questi sono i numeri, questi sono i turisti che passano, sono gente che viene qui anche solo per passaggio, quindi magari è più comodo swipare su Tinder che uscire, andare a cercare, tu, nel senso, ci sta. No, perché di passaggio? E quanto emerge appunto dal report, ieri in Swipe, che io penso sia una sorta di Spotify wrapped, una roba del genere. Sì, sì, sì. Immagino che sia tipo la tua cosa più... Fa anche Google, lo fanno tutti, a fine anno. Esatto, il resoconto. Prendono l'Excel che c'hanno lì, fanno somma e ti danno un po' di ridico. Beh, lo mettiamo in una grafica. Sì, lo fai una grafica molto fighetta e si è posto. E poi basta. Quindi Milano, sostanzialmente, non ci sono i numeri purtroppo. Sì, perché farebbero ridere. Perché ero veramente curioso, ho lanciato l'app più popolare del mondo, scaricata, ma no, ma io voglio sapere, no, non ci sono i numeri. E vabbè, non ci sono i numeri. E la prima, lo prendiamo sulla fiducia. La prima, non si sa perché, non si sa per come, ma comunque è la prima. Vale, scaricherò Tinder solamente per… E attenzione però, perché magari… No, 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 non fa in tempo a… C'è ad esempio io con Apple Music, ho cambiato l'account a un certo punto e non ho fatto abbastanza play durante gli ultimi mesi con un nuovo account e quindi non mi fa il RAPID che poi si chiama replay, 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 replay. E quindi mi dice, no, non ho ascoltato abbastanza la musica, ho tutto l'anno ho ascoltato, ma perché ho cambiato l'account e quindi… Vabbè, mi farò comunque… No, scherzi. Sì, ma fatelo per altri motivi. Non sto scherzando. No, un saluto a… È un orario in cui non si può… Un saluto alla signora Masieri. L'ora precedente sarebbe stato più consono dare questa notizia. Poi la signora Masieri si sveglia entro le 8 e quindi non possiamo… No, si scherza. Si scherza. Comunque, Merlata Bloom, ritorniamo a parlare di Merlata Bloom? Sì, dopo parliamo di Merlata Bloom. Andateci, è interessantissimo. Liga Bue con Essere Umano. L'essere umano che qui al mio fianco si chiama Lorenzo Masieri e sta leggendo i giornali, vero? Esatto, abbiamo annunciato di parlare di Merlata Bloom. E adesso il quiz settore di giornata. Perché parliamo di Merlata Bloom? Perché sono 800.000 metri quadrati, sostenibili, ambiente green, posteggi… No, 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 perché è stato indetto uno sciopero. Aperto l'altro ieri. Esatto, da Flaica Cube per il prossimo 22 dicembre. Il sindacato chiede stipendi maggiori per i lavoratori. Quindi giornata di sciopero davanti a Merlata Bloom. Grandi! Le aziende della grande distribuzione cooperativa hanno macinato profitti stratosferici in questi anni, si legge nella nota del sindacato. Nonostante ciò, i tavoli di discussione per il rinnovo dei contratti nazionali, eccetera, eccetera, sostanzialmente si chiedono condizioni di lavoro migliori, in particolare le tributzioni migliori, per i lavoratori. Adesso. Oh, applauso. Basta, no, finalmente… minacciati, minacciati, no, non sono minacciati, ma sempre sotto l'agonia del fatto che non ti rinnovo il contratto, queste robe qua, invece, bravi. E tra l'altro, appunto, ricordiamo che il Merlata Bloom ha aperto forse un mese fa. Sì, più o meno. E ricordiamo che ha aperto sotto di più di 200 dipendenti. Sì, chi sa perché non trovano l'oggettivo da lavorare. Quindi io, diciamo che mi limito a riportare, mi limito a riportare. No, no, io, ragazzi, sono con voi al vostro fianco. Ditemi lo slogan, lo urliamo insieme a voi. Sì, 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 sì. Poi, Francesco Rocca, consigliere comunale… Francesco? Rocca. Ah, non Renga, no, ok. Eh no, non sarebbe stato Renga. Renga, se no, Francesco Rocca, consigliere comunale. Consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia, se non sbaglio. Ok, va bene. Pubblica ieri Castello Sforzesco e Centro di Milano diventino patrimonio UNESCO. Oggi sulle pagine di Libero, rinanciamo la nostra proposta, il nostro sogno per valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico e identitario della nostra città. Si può fare patrimonio storico un castello per cui Metà è finto? Cioè, ricordiamo che Metà è stato ricostruito, però adesso, io sono d'accordo, eh. Cioè, per me Milano è patrimonio intergalattico. Però, nel senso, poi, il castello non è più quello originale, non sanno come dire. Eh, chiediamo, chiediamo a consigliere Rengas. Rocca. Rocca, scusate, no, Renga, scusate, ho bagnato. No, parleremo, parleremo. No, ma prossimamente, prossimamente… Chiamiamo? Che prossimamente chiamiamo qualcuno di Fratelli d'Italia che ho voglia di chiacchierare. A me. Detto così sembra… Che voglia di chiacchierare, mi porto che un caffè. Detto così sembra una minaccia, ma in realtà ho voglia di chiacchierare su… Sui temi. Su varie vicende, su varie vicende. Sui temi, sui temi. Intanto sono anche arrivati… Il famoso confronto sui temi. Con sui temi. Intanto sono arrivati i giochi olimpici in Città, scrive il comune di Milano. No, i cinque cerchi sono arrivati sotto l'albero dei giochi in Piazza Duomo a Milano. Scatta una foto ai piedi dell'albero e condivide sui social taggando Milano Cortina 2026 e Chioccio, la comune di Milano. Ok. Solo cinque cerchi dice? Cinque cerchi… Non dice delle Paralimpiadi? Perché in realtà, ve lo dico, c'è anche… Agitos. Da una parte ci sono i cinque cerchi, l'ho visto l'altro ieri. Da una parte ci sono i cinque cerchi, dall'altra parte c'è il logo delle Paralimpiadi. Allora, l'ho saltato io perché non sapevo cosa volesse dire. Ho cercato Agitos, che è il comitato paralimpico internazionale. Non mi tornavano le cose, allora non l'ho detto. Ok, ok. E invece sì. Perfetto, perfetto. C'è anche quello bello. A me piace tanto poi il logo delle Paralimpiadi. che sono fondamentalmente tre dei cinque cerchi un attimino spezzettati, diciamo così, più o meno. E quindi mi piace, mi piace. Anzi, vi invito ad andare su Netflix a vedere una serie che parla proprio della nascita delle Paralimpiadi, che è davvero molto, molto interessante. Ma così volevo dire questa cosa qua, ci tengo tanto. Va bene, andiamo avanti con la musica, allora, dai. Anche questa era di Sanremo. Sì, sì, anche questa qui. Di due anni. Due anni fa. Due anni fa a Sanremo arrivava un gruppo con un nome femminile della rappresentante di lista. Ecco, arrivavano loro, conosciuti a molti, sconosciuti ai più all'epoca. Adesso, per fortuna, ben conosciuti. Tra l'altro, facendo tutt'altro genere. Perché Sanremo è andato ad ascoltare i primi dischi della rappresentante di lista. È quell'indie che o fa sorcere il naso o ami. A me piacevano molto. Poi hanno avuto questa svolta glam, incredibile, con wow, mi pare che sia il disco di svolta. E posso un piacere o non un piacere. È l'influenza di Porta Venezia, secondo me. È quella roba lì che ha prodotto appunto tanta buona musica, mischietta, ad esempio, e tante altre, tra cui anche appunto la rappresentante di lista con il brano che due anni fa è stato presentato a Sanremo, che è il famosissimo ciao, ciao. Noi vi diciamo ciao, ma ci rivediamo, ci raccontiamo. Più un arrivederci. Sì, sì, a fa poco, a fa pè, a fa pè, a fa pè. Ciao, 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 la rappresentante di lista di nuovo qui su Crystal Radio, alle 8 e 39 minuti di oggi, mercoledì, 13 dicembre, Santa Lucia, ricordiamolo sempre, così auguri a tutte le Lucie, a tutti anche Lucio, non credo, no, sarà San Lucio esisterà. Non lo so, non lo so, quindi auguri a Battisti, Dalla e quanti altri, Lucio conosciamo, non so. Dalla? Eh, ho detto Battisti, Dalla, non mi viene in mente altri Lucio. Caracciolo, direttore di Rimes. Ah, vede bene. E invece Lucia, Lucia, annunziata, ci ha annunziata, non mi viene in mente altri Lucia. No, non mi viene in mente altri Lucia che lavora al Tribunale di Milano, saluto, ciao. Salutiamo il Tribunale di Milano, sempre con rispetto. L'ufficio della stampa, soprattutto, dove si registrano le testate giornalistiche, mi piace sempre tanto andarci. Perché sono obbligato ad andarci. No, non così, intanto non lo trovarli. No, anzi, no, devi fare delle cose, vai lì. E poi invece auguri a tutti coloro che festeggiano invece Santa Lucia, che questa notte dovrebbe aver portato tanti bei doni ai bambini bravi. Ma non lo so se è anche Santa Lucia, non lo so, gli stacca i denti, gli stacca gli occhi, sai che lei è quella degli attuali. Santa Lucia è buona, ti porti i regali, ma se sei cattivo ti strappa gli occhi. Ecco perché c'è l'iconografia, lei ha un piattino con su due occhi. No, stai dicendo tutte le robe che io non so. Beh, sei ignorante da quello, perché oggettivamente... Santa Lucia è buona. No, 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 sei oggettivamente ignorante su tutto. Ok, ci sta. Va bene, sei solo le cose sulla P2, degli anni di piombo, la Seconda Repubblica, la Lucio Caraccio, questa roba qua. Quello è il tuo, tu, sei fermo lì. Quello è il tuo. Quello è il tuo, vai a vendere il pesce, come diceva Fratelli Capone. No, quello. E quindi auguri a tutti i bambini e le bambine brave che hanno ricevuto un regalo da Santa Lucia. E attenzione a quegli altri. E attenzione a quegli altri, perché... Mi cavo gli occhi. Arriva così a Santa Lucia, mi faticavo gli occhi. Veramente? Ma è così cattiva Santa Lucia? No. Ho inventato tutto. Come, veramente? No, il piattino ce l'ha. No, il piattino ce l'ha, il piattino con sugli occhi ce l'ha Santa Lucia, ma perché lei è la protettrice, anzi, della lista e così. Sì, sì, infatti, no, no, non cava gli occhi a nessuno. Cercherò, cercherò. Intanto, 12 ore fa, quindi ieri. No, 12 ore fa, sì, ieri. Forza Italia Milano pubblica una foto sui social con Silvio Berlusconi. Con scritto, sei sempre con noi. Capsion. Come mai, ieri? Capsion. Sei mesi fa ci lasciava il presidente Berlusconi. Andiamo avanti con coraggio, proprio come ci ha insegnato lui, per il bene dell'Italia. Vabbè, ci sta. Sei mesi già? Sei mesi. Sei mesi. Continuiamo, diciamo, su questa scia azzurra, perché Alessandro De Chirico, con grande piacere, capogruppo di Forza Italia, non noi sbagliamo spesso questa cosa qua, che diamo per scontati, non mi dai assessori, non mi consigliere, a nessuno frega niente la politica locale. Lo dico con ramarico, a nessuno frega niente e quindi nessuno sa chi è assessore alla sicurezza del Comune di Milano e quindi noi lo dobbiamo sempre ripetere. Dobbiamo fare un'azione di educazione civica, in questo caso, di civilizzazione alla politica. Educarne uno... Per civilizzarne un milione e quattrocento mila abitanti. Alessandro De Chirico, con grande piacere, scrive questa sera ho dato il via ai lavori del convegno Coraggio, concretezza, responsabilità, promosso dal Comitato Civico Milano Meritan, per parlare di buona politica e buona amministrazione. Tra gli ospiti di questa prima conferenza abbiamo Giulio Gallera, ex assessore a UEFA della regione Lombardia, ce lo ricordiamo durante gli anni del Covid, e un altro nome non di spicco, come Gabriele Albertini, che è andato, ex sindaco di Milano, a presentare il libro. Di Riffo o di Raffo, sempre lo tirano in mezzo. Lui dice sempre, no, 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 poi alla fine non c'è sempre a farsi fregare, alla fine lo incastrano ogni volta. Ma guarda, io... Ma perché ti posso dire, è una persona super disponibile, secondo me, quindi veramente, cioè, non è... secondo me non tornerebbe mai, ma... Anche per chi non è di destra, Gabriele Albertini ha comunque una postura istituzionale che, secondo molti, manca a questa destra. Ricordo perfettamente, quando poi sarà la serie candidato, che andarono a prendere un caffè con Salvini in zona Domodossola. Ancordo benissimo il posto, perché avevano fatto la foto, perché tutti parlavano, ma Albertini, 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 Salvini, si è andato a prendere un caffè, sembrava fatta, e poi alla fine lui ha fatto il passo indietro. Oh, non hanno trovato un accordo. No, spesso lo dice, che non ha più voglia di farsi sequestrare, ha detto lui, perché dice che è un sequestro cosciente di persona, quello quando fa il sindaco. Ma poi, secondo te, l'hai intervistato, una lunga intervista, è andata a recuperare su Milano News, molto interessante. Secondo te, uno come Albertini, si identifica in Matteo Salvini? Anche in quel tipo di destra? Secondo me no. No, no. Ma io dico anche di più, un Gabriele Albertini riuscirebbe ad amministrare una città oggi, che non è quella degli anni... O vivrebbe di rendita degli anni in cui ha fatto il sindaco. È quello, dove era tutto completamente diverso, più difficile per certi aspetti, più semplice per altri. Insomma, non era il sindacato della polizia locale qualche giorno fa, venuto qua ospite, lo ricordano con grande affetto, nonostante 18 mesi di vertenza sindacale. Quindi comunque, insomma, però adesso non è più quel mondo lì. E poi, come si dice all'amica che vuole tornare con l'ex, la minestra riscaldata non va mai bene. Grande perle di saggezza da Maseri. Sulla destra, su con la sinistra, avanti. Eh sì, destra, via. E se è partito un manifesto politico. No, no, no. Su con la destra. No, no, era un po' di, come si chiama, jogging, no, come si chiama, aerobica, aerobica. Una canzone del genere puoi giusto fare quello. Ma lo dico io, lo dico io. Comunque erano PNAU. Il gruppo si chiama PNAU. PN-U-A-R-U-A-R-U-A-R-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R-U-A-R. Non ne ho la minima idea. Comunque. Te hai piaciuto tanto, vero? Non l'hai neanche scontata? Non lo dici. Perché? Dovevi mettere gli scaldamuscoli, la fascetta in testa e fare ginnastica. un VHS di Jane Fonda sì sì e nulla però mentre ero in pausa mi è venuta mettere solamente una cosa perché noi andiamo in pausa ma il suo cervello no si parlava Albertini per le passate però io dico occhio a quelle future perché non si identificava secondo me in un leader come Matteo Salvini della destra ma in una leader come Giorgia Meloni punto di domanda la nostra Margaret Thatcher vedremo io non lo escludo o c'è anche la sottetà ne avranno un po' le balle piene e poi ricordiamo sempre l'altra cosa che noi diamo per scontato che c'è il limite di mandati per Sala sicuramente tra i due candidati che si giocheranno la Palazzo Marino mettiamola giù così non ci sarà il candidato fuori e quindi se tirarne fuori uno forte potrebbe dire per la destra riprendere Milano dopo un bel po' di tempo c'è Carlo Monguzzi per la semistra che potrebbero proporlo come sindaco così potrebbe benissimo pacificare tutti lui lo vedo intanto sarebbe un candidato forte io auspico un po' divisivo forse forse divisivo però benvenga ma mi piacerebbe delle scelte così invece le scelte quelle radicali sia da una parte che dall'altra è più facile quando proponi quelli che insomma sai già che non mettono un po' d'accordo tutti no invece metti qualcuno che perde poi però perché forse è quello il problema che se non metti d'accordo tu ti perdi il rischio è quello ma se ne metti due che non mettono d'accordo tutti chi vince? è questa domanda come succede quella roba tipo attaccare la fetta biscottata con la marmellata che cade sempre così e il gatto che cade sempre in piedi si crea un vortice ok perfetto un vortice a spazio temporale dove comunque vince sempre come dico sempre l'immobilismo ah vedi ecco Marco Mazzei Marco Mazzei non vince sempre la musica? no non vince neanche sempre lo sport Fedez di sempre vince sempre la musica Marco Mazzei l'abbiamo nominato prima buongiorno Mazzei l'abbiamo nominato prima ieri pubblica una foto sui social in cui in zona mi sembra Porta Venezia sicuramente Porta Venezia c'è una ciclabile con 5-6 ciclisti vedo 6 ciclisti e lui mette per punti col freddo nessuno va in bici secondo punto i ciclisti passano tutti col rosso perché questi 6 ciclisti sulla ciclabile 7,6 sono fermi al rosso in uno snodo quindi è onica la cosa è sarcastica è sarcastica inteso che c'è c'è tanta gente che usa la bici anche col freddo e adesso io vedo letteralmente 7 persone ma comunque è bene io sono sempre contento figurasi per la bici questo ed altro poi i ciclisti passano tutto col rosso mi permetto di dire che in quello snodo in quell'incrocio non passare col rosso vuol dire sostanzialmente è impossibile passare col rosso esatto sono altri incroci in cui magari qualcuno ci prova devo dire che ieri sera proprio su rete 4 così la redazione mi ha mandato questa news quasi live ieri sera su rete 4 hanno parlato della ciclabile di 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 corso di porto di corso di buenos aires perché c'erano in realtà non si capiva dove voleva andare a parare perché da una parte dicevano ci sono le macchine posteggiate sulla ciclabile ma poi c'era tutta la gente che diceva che era pericolosa anche i ciclisti stessi che hanno intervistato dicevano no è pericolosa perché c'era adesso hanno messo il pezzo di cemento poi hanno messo dei paletti di metallo sulle curve per non far posteggiare c'è un pezzo di pedonalizzazione anche in mezzo alla strada perché serve per andare a prendere la macchina e quindi devi attraversare la pista ciclabile perché posteggi dall'altra parte e non so però era un po' strana come cosa io le te 4 cos'è la carta bianca non lo so non ho la mia idea non ho guardato la carta bianca no era il telegiornale credo la TG4 forse mi dicono comunque sempre Marco 1 a 6 ci fa sapere ottime notizie dal municipio 3 perché dopo anni di situazione critica stasera in commissione mobilità hanno scritto presentiamo la sistemazione della viabilità e della ciclabilità lungo via Corelli che come sappiamo invece è nota le cronache per il CPR questo è un altro discorso che non apriamo in questo momento soprattutto nel tratto di ponte sopra il Lambro verrà sistemato anche l'accesso alla ricicleria Corelli oggi abbastanza pericoloso e quindi interventi anche da quel punto di vista che magari sotto Natale sono fatti un po' più in sordina perché i grandi titoli sono per Christmas Village eccetera eccetera però continuano a farsi anche se oggettivamente c'è meno gente in bici per le temperature ci sta c'è anche meno gente in moto c'è anche meno gente a piedi c'è anche meno gente non è vero quello mai c'è sempre sempre in Italia in Italia comunque sai che ti dico così così siamo arrivati alla fine sigla così 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 Grazie a tutti.